Gil, contenta di essere qui? Per me è un onore essere qui, contenta non è la parola giusta, sempre per me è molto commozione perché io ho perso la mia sorella a cancro al seno nel 2012, così quando sono qui è più di una lezione, è proprio una commozione di mia sorella Wendy che mi manca tantissimo, è un modo anche di dire a tutte le persone che lottate, credete, continuate a amare e prevenzione, tanto tanta prevenzione mi raccomando a tutti. Tanta prevenzione, ma corretti stili di vita e sport? Beh, sport per me è vita proprio, è come portare il corpo a spasso ed è piacevole, se non ti piace lo sport prova, camminate, portate il vostro cane a spasso perché è qualcosa che veramente fa bene la salute, ma più della salute fa bene la mente e poi uno sportivo riesce anche magari a affrontare delle difficoltà con più serenità perché impari a soffrire per ottenere un risultato. C'è ancora tempo per iscriversi? No, dovete iscriversi, c'è tempo anche dopo se vogliamo dire, anche dopo la race puoi iscriverti, donare fa sempre bene e voglio ricordare a tutti quanti che vengono eseguite 250.000 mammografie gratuitamente all'anno grazie a questo evento, vuol dire a persone che magari non potevano fare lo screening lo possono fare grazie a Race for the Cure, di conseguenza contribuite perché è per un'ottima causa, non soltanto una buona causa. Com'è stato incontrare il Presidente della Repubblica? Per me è un'emozione, proprio oggi mi sentivo come una bambina proprio perché comunque io sono straniera e essere accolta nel corinale dal Presidente della Repubblica era un'emozione unica, unica e sono veramente grata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.